Il mondo bancario è in fermento e da monitorare attentamente, guardate un po' qua, credo possa essere interessante, la politica dei tassi bassi della BCE miete le prime vittime, inizia la morte della banca, Rabobank termina l'attività dei clienti privati in Germania, le grandi banche chiudono sempre più figliari, alcune banche stanno rinunciando alla loro attività di clienti privati in Germania, quindi attualmente la Rabobank, questa è solo la punta dell'iceberg. Attenzione, seguiamo il mondo bancario che ci riserverà delle grosse sorprese perché la crisi del 2007-2008 non è mai finita, si è solo nascosta la polvere, moltissima polvere sotto il tappeto e si è tenuto artificiosamente in vita banche che sono piene, che hanno in pancia un sacco di crediti deteriorati ed inesegibili. Grazie per l'attenzione e alla prossima videopidolina. Grazie per l'attenzione e alla prossima! Grazie.